Oggi vado a trovare Libero, una simpatica persona dall'accento veneto che ha deciso di sostituire il suo boiler elettrico che consumava una montagna di energia ed era la causa di bollette elettriche salatissime per passare in pompa di calore da 100 litri, visto che sono in due nell'appartamento. Allora andiamo a vedere quanto ha risparmiato negli ultimi anni. Sono qua con il signor Libero che ha installato la pompa di calore per acqua calda ancora nel 2015. Ok, prima Libero cosa avevi per scaldare? Normalissimo, scaldavano elettrico. E come ti sei trovato con la pompa di calore? Beh, bene insomma, bene. Una volta che ho anche testo, una volta che mi rimane una bolletta, credo che ho quasi metà, mi sembra anche corretto, per correttezza, anche perché mi metterlo bene, mi sembra anche una bolletta, dimezzata. Una bolletta? Che ho detto, sì. Bolletta dimezzata? Sì. Bene. C'è sempre acqua calda? Sì, sì. E come incentivi ha iniziato a ricevere la detrazione? Quindi già l'incentivo inizia a tornare? Sì. Bene. E quindi consiglierebbe a chi ha il boiler elettrico di sostituirlo con... Anche domani. Libero è una persona molto precisa e si segna ogni settimana quanto consuma il contatore di energia elettrica. Questi sono i consumi settimanali prima di installare la pompa di calore, quando aveva ancora il boiler elettrico. Facendo la media, otteniamo 73 kWh alla settimana. Pari quindi a circa 3.800 kWh in un anno. Ad ottobre 2015 ha sostituito il boiler elettrico con la pompa di calore. Ed ecco che i consumi sono scesi a quasi 50 kWh alla settimana. È dovuto uscire di casa per un impegno dell'ultimo momento. Anche lui vive in appartamento e aveva un boiler elettrico. E mi ha mandato la schermata delle bollette dei 6 mesi prima di installare la pompa di calore. Oggi invece con la pompa di calore professionale ha risparmiato 1110 kWh in un anno. Se ti è piaciuto questo video vai sul mio blog www.acquacalore.it E iscriviti al mio canale YouTube per vedere nuovi video.